E allora meno 5, 4, 3, 2, 1, fermi, 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 è ancora presto, è ancora presto ragazzi fermatevi, fermatevi perché cosa succede? Succede che il 31 noi di Fidati di me saremo qui a festeggiare tutti insieme il nuovo anno con tanta allegria, con tanta gioia, con tanto amore, tante risate e tanta informazione, mi raccomando puntuali qui su Rete 8, canale 10 perché per il 31 c'è solo un countdown, il nostro countdown, tutti insieme e allora iniziamo da adesso a festeggiare puntuale, il 31, e 5, e 4, e 3, e 2, 1, ci vediamo qui su Rete 8 ciao 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 ciao